Alberto Urso e Tish sono sempre più affiatati come dimostrano gli scambi di messaggi sui social anche durante le festività Amici 18, Alberto e Tish sempre più vicini.Alberto Urso è il tenore che è entrato immediatamente ad Amici 18 la prima puntata Tish è stata una delle prime cantanti ad avere il banco. I due ragazzi hanno iniziato ad interagire costretti dalla produzione che ha assegnato loro un duetto Ci sono state molte difficoltà all'inizio, soprattutto da parte di Tish che sembrava molto impacciata Dal secondo duetto, invece, le cose sono completamente cambiate. Alberto e Tish sono sempre più complici, tanto che spesso lei gli fa qualche scenata di gelosia La diciottenne non sopporta che Alberto abbia lo stesso comportamento affettuoso che ha con lei anche con altre ragazze del programma Amici 18, Alberto e Tish complici anche durante le festività.Anche durante il periodo delle festività, non sono mancati i gesti d'affetto tra i ragazzi di Amici 18 che si ritrovano lontani per qualche giorno Tish, in particolare, ha pubblicato una sua foto su Instagram e Alberto ha commentato con una serie di cuori La giovane cantante ha prontamente replicato con altrettanti cuori. Si tratta dell'inizio di una storia d'amore? Non rimane che seguire le prossime puntate di Amici 18 per scoprirlo Amici 18, le ultime novità.I ragazzi della scuola di Amici di Maria De Filippi sono tornati a casa per il periodo delle feste Tuttavia, anche loro hanno diversi compiti per le vacanze da svolgere. Ad esempio, Tish deve ascoltare degli album che le sono stati suggeriti dal prof di canto Rudy Zerbi, Marco e Moli devono prepararsi al meglio su una coreografia di danza classica assegnata loro dalla maestra Alessandra Celentano per punizione Infine, la squadra Atene deve cercare di riscattarsi dalle recenti sconfitte. Che cosa succederà nella prima puntata di Amici 18 del 2019?